Il metabolismo del fosforo è molto importante per le omeostasi del nostro organismo. Quando ci sono delle alterazioni possono essere dei guai anche seri e le alterazioni possono essere dovute o ad altre patologie o in certi casi anche a cause di origine genetica. Noi abbiamo parlato con la dottoressa Cristina Eller che abbiamo incontrato qui a Bari al 22esimo congresso nazionale della SIOMS. Dottoressa Eller, incominciamo dall'inizio. Si racconta un po' il metabolismo del fosforo, il ruolo del fosforo all'interno del nostro organismo così poi capiamo meglio tutto il resto. Il fosforo è un elemento assolutamente importante per il nostro organismo ed è finemente regolato. Quindi i livelli di fosforo nel sangue sono controllati ed è importante che rimangono all'interno di un certo range. Durante l'arco della vita cambiano i livelli di normalità in base a quello che è il fabbisogno proprio del fosforo. Per esempio sono più alti in epoca per i Natale perché c'è il maggior bisogno di mineralizzazione scheletrica per poi scendere e arrivare ai livelli dell'adulto una volta finito la maturazione scheletrica. E il nostro organismo spende un sacco di energia per regolarlo. Infatti negli ultimi anni si è scoperto che non solo il paratoormone e il calcitriolo, che è la vitamina D attiva, regolano i livelli di fosforo, ma anche un nuovo ormone che è l'FGF23 che è assolutamente il protagonista principale. E c'è un meccanismo molto complesso in cui questi attori interagiscono tra di loro per garantire dei livelli di fosforemia che siano sempre all'interno del range di normalità. Ecco, il fosforo serve unicamente per lo scheletro o anche altri ruoli? In realtà è fondamentale anche per tante altre cose, per la contrattilità muscolare, per l'illegale micro ATP, per il controllo dell'acido base, cioè quindi ha degli effetti che vanno ben oltre la mineralizzazione scheletrica che comunque è sicuramente una delle cose su cui noi ci concentriamo di più. Certo, visto l'ambiente in cui siamo. Cosa succede quando i livelli di fosforo invece scendono al di sotto dei valori soli che lei ci ha detto? Quindi quando siamo in una situazione di ipofosforemia? Nel momento in cui siamo in una condizione di ipofosforemia, noi dobbiamo sapere che viene alterata la capacità di mineralizzare dello scheletro, quindi ovviamente questo dipende dall'entità dell'alterazione del fosforo, quindi soprattutto se è grave noi dobbiamo dare per scontato che ci sia un'alterazione della mineralizzazione, che è qualcosa che è difficile da andare a misurare. Banalmente la MOC, che è quella che guarda quanto osso noi abbiamo, non rileva per esempio questo parametro. E da un punto di vista della sintomatologia, però, possono anche comparire altri disturbi, che dipendono sicuramente da quanto è alterato il fosforo, ma anche dalla velocità, per cui ci sono pazienti che possono essere asintomatici, ma se l'alterazione è maggiore o è avvenuta in maniera più rapida, possono comparire debolezze muscolari, dolori muscoloscheletrici, si possono presentare fratture e livelli molto bassi, sono anche pericolosi per la sopravvivenza, però sono cose molto rare. Dottoressa, quali sono le cause principali di ipofosforemia? Allora, intanto il riscontro di bassi livelli di fosforo, quindi di un'ipofosforemia, è un qualcosa di molto comune, che in passato veniva spesso trascurata. Le cause in assoluto più comuni di un'ipofosforemia cronica sono spesso quelle legate a un malassorbimento intestinale, sia per patologie, quindi patologie note, ma anche magari malassorbimenti, malnutrizione, farmaci che riducono l'assorbimento, o per esempio tutte quelle condizioni che portano ad avere un aumento del parato ormone, o perché c'è una patologia delle paratiroidi, come l'iperparatiroidismo primitivo, ma anche in cui il parato ormone aumenta perché ci sono per esempio delle carenze di vitamina D e quant'altro. Quindi queste sono quelle che sono di più frequente riscontro e che vanno escluse da un clinico che vede questo valore. Però poi ci sono invece anche condizioni che seppur più rari invece hanno degli altri meccanismi, quindi per esempio un danno a livello renale, quindi un rene che non riesce bene a riassorbire il fosforo può portare ipofosforemia, oppure ci sono delle condizioni appunto che possono essere di tipo congenito, quindi dovuto a mutazioni genetiche o acquisite, che portano di fatto a una iperproduzione di quell'ormone di cui avevamo parlato, che è FGF23, che fa proprio perdere fosfato a livello renale. Quindi abbiamo tutte le forme dei rachitismi congeniti, di cui quella forma legata al cromosoma X, cosiddetta X-linked, è quella sicuramente più frequente, ma ne esistono anche altre che hanno dei meccanismi simili, ma con delle loro peculiarità, oppure patologie seppur rare, come l'osteomalacia oncogenica, in cui ci sono delle neoplasie mesenchimali che di per sé non sono aggressive, ma che possono portare a dei quadri molto importanti da un punto di vista clinico, proprio perché legate proprio a questo sviluppo di un'ipofosforemia grave. Dottoressa, infine la domanda più importante, soprattutto per i pazienti, come si trattano queste condizioni, sia quelle appunto legate alle patologie che ci ha raccontato, sia quelle di tipo genetico? Allora, ovviamente innanzitutto, è ovvio che se noi abbiamo delle cause, quelle più comuni, in cui c'è un malassorbimento, c'è un deficit di vitamina D o quant'altro noi dovremmo cercare di andare a correggere questi fattori. Se invece siamo davanti a una forma da perdita renale di fosfati legate all'eccesso di FGF-23, quindi condizioni croniche, eccetera, se il paziente ha dei sintomi e delle complicanze, diciamo fino a poco tempo fa, l'unica strategia terapeutica era quella di fatto di andare a cercare di riempire la vasca che perdeva fosforo, quindi l'utilizzo di supplementi di fosfato e del calcitriolo che è la vitamina D attiva che cerca di far assorbire meglio questa sostanza, ma diciamo che questa è una terapia che seppur dando risultati aveva una serie di limiti. Nelle forme che vi ho detto legate alla presenza di tumori, lì la terapia dovrebbe essere quella chirurgica, ovviamente, eziologica di andare a rimuovere la causa, ma se noi non siamo in grado di trovare il tumore oppure siamo di fronte a una patologia genetica come l'XLH. Oggi come oggi abbiamo anche a disposizione un nuovo farmaco che è un anticorpo monoclonale contro proprio l'FGF23 che quindi va proprio ad antagonizzare l'azione di questo ormone e che ha dato dei risultati veramente ottimali. Abbiamo poi in futuro, forse ci sono in studio anche altri farmaci come nell'MPP1 sintetico che in un futuro potrebbe andare a dare una risposta anche per quei pazienti ancora più rari che hanno una patologia simile ma con dei meccanismi che possono portare a quadri simili ma anche con delle altre complicanze per cui l'anticorpo contro l'FGF23 non potrebbe dare delle risposte complete.